ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerà i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco paraffina liquida bioindustria lim bioindustria laboratorio italiano medicinali bioindustria lim spa ultimo aggiornamento 23 novembre 2021 cosa paraffina liquida bioindustria lim confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere paraffina liquida bioindustria lim durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci esteri cosa paraffina liquida bioindustria lim paraffina liquida bioindustria lim ha un farmaco a base del principio attivo paraffina liquida appartenente alla categoria degli lassativi e nello specifico altri prodotti ausiliari non terapeutici è commercializzato in italia dall'azienda bioindustria laboratorio italiano medicinali bioindustria lim spa paraffina liquida bioindustria lim può essere prescritto con ricetta sop medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco confezioni paraffina liquida bioindustria lim west lubrificante sterile 10 fiale 10 ml informazioni commerciali sulla prescrizione titolare bioindustria laboratorio italiano medicinali bioindustria lim spa ricetta sop medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco classe c principio attivo paraffina liquida gruppo terapeutico lassativi forma farmaceutica lozione indicazioni lubrificazione di cateteri sondini strumenti chirurgici posologia applicare il lubrificante dove necessario controindicazioni ipersensibilità al principio attivo avvertenze speciali e precauzioni di impiego il medicinale a sterile e va utilizzato una sola volta come lubrificante di materiale sterile il liquido residuo deve essere eliminato non iniettare vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione non pertinente vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it assumere paraffina liquida bioindustria lim durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere paraffina liquida bioindustria lim durante la gravidanza e l'allattamento non pertinente vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non pertinente effetti indesiderati nelle normali condizioni d'uso non sono stati riportati effetti indesiderati segnalazione delle reazioni avverse sospette la segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale a importante vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio non pertinente proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica altri prodotti ausiliari non terapeutici a euro classe atcv 07a y proprietà farmacocinetiche paraffina liquida sterile non presenta attività sistemica in quanto utilizzata nella lubrificazione di materiale sterile dati preclinici di sicurezza non pertinente elenco degli eccipienti non pertinente fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmama x ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato